Prosegue a Città di Castello il progetto per il completamento della variante del Cassero. Dopo l'apertura di una parte della nuova viabilità avvenuta in estate, ora il comune di Città di Castello ha affidato i lavori da 600 mila euro per la realizzazione dell'ascensore e il raddoppio del parcheggio Collesi. Ascensore che collegherà l'intera area per la sosta sotto il bastione del Cassero a Piazza Gabriotti e saranno inoltre realizzati 110 posti auto in più con il raddoppio del parcheggio Collesi. Sono gli interventi ai quali l'amministrazione comunale ha dato semaforo verde con l'affidamento a un'impresa di Perugia. Finanziate dallo Stato mediante la regione per 350 mila euro e cofinanziate dal comune di Città di Castello con un mutuo da 250 mila euro, le opere previste dal progetto saranno consegnate all'azienda presumibilmente entro la fine dell'anno e prenderanno il via all'inizio del 2025 andando a collegarsi a quelle della variante del Cassero attualmente in fase di ultimazione. Grazie.